Se qualcuno però pensa di usare l'emergenza sanitaria e l'emergenza coronavirus per far passare delle schifezze, non avrà il consenso della Lega. Di cosa sto parlando? Dell'uscita dal carcere anticipatamente di migliaia e migliaia di detenuti. Questo è in ballo, questo l'ho detto chiaramente sia al Presidente del Consiglio Conte che al Ministro della Giustizia Bonafede non ci sarà mai il consenso della Lega su indulti mascherati, amnistie mascherate, svuota carceri mascherate. Di cosa stiamo parlando? Perché è bene che lo sappiate. Secondo quello che ci risulta e secondo le dichiarazioni del Governo nel decreto legato al virus è prevista anche l'uscita anticipata dalle carceri di tutti i detenuti a cui rimangono da scontare meno di 18 mesi di pena o che sono stati condannati a meno di 18 mesi di carcere. Il Partito Democratico dice che non si tratta di detenuti o di reati di grave allarme sociale. Ora io, codice penale alla mano, siamo andati a studiare e vorrei sapere se vi sembra normale, anche peraltro dopo le rivolte che hanno coinvolto 60 carceri italiane, io ripeto i numeri di settimana scorsa, 60 carceri con rivolte o con incendi, danneggiamenti per 35 milioni di euro di danni, 70 agenti feriti della polizia penitenziaria, 13 morti fra i detenuti, 72 evasi di cui ancora 3 latitanti nel Foggiano fra cui un assassino. Quindi questa è la situazione da cui arriviamo, 60 carceri in rivolta, morti, feriti ed evasi. Risposta del Governo, uscita anticipata per reati e detenuti di non grave allarme. Non ci sarà mai il voto della Lega o il consenso della Lega a un'operazione vigliacca per far uscire in anticipo di cella migliaia di delinquenti.